Spolvera lo smoking e stira il vestito in lungo. 10 LOL ti porta agli MTV Europe Music Awards 2013. Fa il test dedicato alla serata musicale più lettrizzante che ci sia. Somma le risposte giuste e scopri quanti premi porti a casa dagli MTV EMA 2013. Quali di queste cantanti non si esibisce agli MTV EMA 2013? Katy Perry, Taylor Swift, Miley Cyrus. Chi è l'unico italiano in gara? Max Pezzali, Emma, Marco Mengoni. Dove si tiene la serata di premiazione? Amsterdam, Barcellona, Parigi. Si esibisce per la seconda volta agli EMA? È Justin Bieber, Bruno Mars, Connor Maynard. Nel backstage degli MTV EMA 2013 c'è Arianna Grande, Katy Perry, Selena Gomez. In quante categorie è candidato Justin Bieber? 4, 5, 3. Come si chiama il presentatore degli MTV EMA 2013? Blue fu, red fu, green fu. Quante risposte esatte hai totalizzato? Da 1 a 3. Ai ai, quest'anno per te non c'è nessun premio in vista agli MTV Europe Music Awards 2013. Partecipa alla serata solo come ospite, ma non ti disperare. Di fianco a te potrebbero stare seduti i tuoi artisti preferiti. Da 4 a 6. Bravo! Sei uno dei tanti vincitori degli MTV Europe Music Awards 2013. Sai quasi tutto sulla serata. Ti meriti almeno un paio di statuette da mettere in bella mostra sulle mensole della tua camera. 7 risposte esatte. Sei il vero vincitore degli MTV Europe Music Awards 2013. Non solo fai incetta di premi, ma sei anche uno dei presentatori della serata e hai l'occasione di esibirti sul palco. Tutti gli occhi del pubblico sono per te! Ciao ragazzi, bentornati su 10 LOL. Volete conoscere meglio Corga e Blanco, il bellissimo Leon della serie di Violetta? In una notte buia e tempestosa che cosa fai? Un bagno caldo. Dormi. Guardi la TV. Apri il frigo e mangi.